I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza hanno sequestrato oltre mezzo quintale di pesce nocivo di varie tipologie detenuto in condizioni igienico-sanitarie pessime che veniva posto in vendita a danno dei consumatori. Il tutto è emerso nel corso di un servizio di controllo economico del territorio espletato nella provincia di Cosenza individuando un venditore, ambulante di prodotti ittici che è stato sottoposto ai controlli di rito. Sin da subito l'attenzione manifestata dal commerciante ha insospettito i finanzieri quali riscontravano che quest'ultimo, sprovvisto di licenza commerciale, poneva in vendita pesce privo della necessaria documentazione sanitaria e dell'etichettatura per la tracciabilità prevista dalla legge. Pessime anche le condizioni in cui veniva detenuto il pesce in parte contenuto in cassette poste direttamente sulla strada a contatto con i gas e discarico delle autovetture in transito ed in parte conservato nel furgone in uso alla trasgressore privo di cella frigorifera. I successivi accertamenti svolti con l'ausilio dei medici veterinari hanno permesso di appurare ulteriormente le precarie condizioni in cui versava il prodotto dovute principalmente al cattivo stato di conservazione per il quale è stato disposto l'immediato sequestro e distruzione. All'esito delle attivitelle responsabile delle violazioni è stato denunciato alla procura della Repubblica di Cosenza e rischia la reclusione sino a tre anni oltre a sanzioni amministrative superiori a 20.000 euro.